Tra pochi istanti prenderà il via la tredicesima edizione dell'Italian Poker Open, l'IPO, il torneo dei record. Non possono mancare le madrine, due per questa splendida edizione e due queste splendide ragazze. Una è un gradito ritorno, è Carolina. Carolina vorrei che tu ti presentassi agli amici dell'Italian Poker Open che ci stanno seguendo. Età, provenienza? Allora ho 21 anni, sono italo-brasiliana, mia mamma è brasiliana, mio papà è un giocatore di poker ed è sempre qui al casino di campione. Per questo anche i passaggi ce li ho gratis, diciamo. Vabbè, che altro? Fidanzato o single? Momentaneamente sono single. Sì, ma credo che in futuro risolverai, non deve rubare. Non lo so, vedremo. Secondo me ce la dovresti fare, in bocca al lupo anche per questo e invece andiamo a conoscere alla mia sinistra l'una, provenienza ed età. Sono una frulana doc, sono di Udine, ho 22 anni, io sono fidanzata e sono una new enzi del poker. L'hai detto con un tono quasi sconsolato, sono fidanzata. Una fidanzata e una single, giustamente. È ovvio, è anche normale che sia così, un po' stile Evelina, anche se poi in realtà una va biondo e una mora, qui invece l'acconciatura e il colore dei capelli è praticamente identico. Ma devo dire che le bellezze ci colpiranno, questo è evidente, ma più che mai ci colperà la presenza a livello numerico e qualitativo dei giocatori, perché l'Italia in poche robe, non dimentichiamolo, è il torneo dei record. E il 2014 parte proprio, come tradizione, nel segno dell'Ipo. Tra poco questa sala sarà gramita.